praticamente ragazzi sono andato a prendere lo scaforo e adesso dobbiamo andare a mettere questa nuova sezione qui sotto quindi direi di mettere la telecamera qui andiamo a girare ok e andiamo a prendere il pezzettino L17 penso che non dovremo avere problemi al riguardo ok abbiamo l'abbiamo messa ragazzi adesso non ci resta altro che andare a prendere le viti e andare a fissare il tutto andiamo a prendere le viti andiamo a prendere la nostra chiave a brucola nel ciò la chiave andiamo a capovolgere mannaggia andiamo a capovolgere un attimo ragazzi lo scafo così mortale da lavorare meglio minnaccia a miseria andiamo a capovolgere ok la prima è messa ragazzi la prima l'abbiamo messa adesso vado a mettere le altre una due e tre viti e ci vediamo tra poco